A scuola ci hanno sempre insegnato che le bugie hanno le gambe corte, che ai pinocchietti si allunga il naso. Nelle immagini si vede l'area occupata attualmente dal TMB. Nella immagine fina possiamo notare l'area complessiva che verrà occupata dopo il revampi. Gli edifici in grigio sono quelli attuali, mentre quelli colorati sono i nuovi edifici che verranno aggiunti. Il cattivo odore intanto è insito nel trattamento di alcune matrici di rifiuti, parliamo delle patrici fermentiscibili, quindi le frazioni organiche che vengono raccolte in maniera differenziata o il rifiuto indifferenziato che ha comunque una componente organica. Il processo di fermentazione che si compie all'interno dell'impianto avviene con un'emissione di cattivo odore. Come dicevo, gli edifici sono tutti chiusi, sigillati, l'aria viene captata e mandata al biofiltro. Il trattamento è quanto più possibile adeguato alle tecnologie del 2005. Oggi, siamo nel 2021, esistono nuove tecnologie, quindi si può pensare di intervenire con un ammodernamento degli impianti per rendere ancora più efficiente il trattamento dei cattivi odori dell'impianto. Poi, in alcuni momenti storici c'è stato più cattivo odore rispetto ad altri momenti, legato ad alcuni interventi di ammodernamento parziale dell'impianto che sono stati effettuati. Però, con un ammodernamento spinto, come il nuovo progetto che è stato presentato, il problema viene sostanzialmente azzerato, anche perché, parlando in termini numerici, noi ad oggi abbiamo un biofiltro che capta tutte le aree degli edifici. Nel progetto di ammodernamento dell'impianto ci sono presenti almeno quattro biofiltri. L'aria esausta dei vari locali dell'impianto viene aspirata e convogliata tramite quel tubo che potete notare e insufflata al di sotto di questo letto. È composto da legno vergine, si tratta di quercia e fagge soprattutto. Come dice il tecnico dei collegi oggi, nel nuovo impianto ci sono quattro biofiltri. Il vecchio indicato con E1, come vedete E verde, rimarrà allo stesso posto e poi ci sono tre nuovi colorati in blu. Cosa esce dal biofiltro? Possiamo definirle sostanze tossiche, con origine come volete, ma emettono il famoso idrogeno solforato, emettono l'ammoniaca, emettono i composti organici volatili ed escono anche delle borgeri sottili. I cui effetti sulla salute si possono chiaramente trovare in qualsiasi libro di medicina. E possiamo adesso parlare di efficientamento. Nel senso che si dice che c'è un'innovazione, che chiaramente la situazione migliora, quindi chiaramente ci sarebbe meno emissione di sostanze origine o tossiche, continuo a dire, chiamatele come volete, all'esterno. Occorre tener conto che attualmente il vecchio impianto emette un'unità olfattiva o d'origine, come avete chiamata, equivalente a 300 unità o d'origine al metro cubo. Con la ristrutturazione e con il revamping ci saranno quattro linee di lavorazione in quattro edifici differenti. Dal vecchio biofiltro l'emissione massima previste è 250, poi c'è la nuova linea di efficientamento migliore del compost che metterà fino a 200 e poi abbiamo le due linee di recupero materiale previste per un massimo di 120 unità o d'origine al metro cubo. Se voi fate conti, nel caso lavorassero tutti e quattro contemporaneamente, si arriva a un valore massimo previsto, possibile, di 690 unità o d'origine al metro cubo. Ognuno tiri le proprie conclusioni. Ho utilizzato il modello delle automobili perché mi sembrano le più chiare. In questi anni i produttori sono passati dall'euro zero all'euro sei, riducendo di volta in volta le emissioni delle sostanze tossiche, che sono anche queste tossiche, nocive per la salute, in particolare per i polmoni, per gli anziani, per i bambini, per le matri. E allora occorre un passaggio epocale che potrebbe essere consentito dalle auto elettriche. E lo stesso ragionamento occorre fare noi. Dovremmo abituarci a ragionare, a consumare di meno, ad abituarsi a non aver rifiuti. I rifiuti migliori sono quelli che non sono rifiuti. Sono quelli che si riciclano, che possono essere riutilizzati, che in pratica si scambiano, si riparano, non bisogna buttare. Occorre abituarsi a utilizzare le compostiere a casa nostra. Molto semplice. Fare delle compostiere di comunità. Occorre che siano compostiere tra condomini, tra paesi vicini. Questa è la soluzione. Perché non ha senso far passare camion da Riace o dall'altra parte, da Bovalino o oltre, da Melito, che trasferiscono nocività delle automobili, dei camion, nel paese. E allora bisogna che uno si tenga il suo organico, che si abitui, che si organizzi. E poi bisogna chiaramente usare meno plastica. Usare le bottiglie di vetro quando si va a comprare l'acqua. Andare a comprare l'acqua è uno spreco di energie che non vengono mai riutilizzate, perché in pratica si crea altra plastica. Occorre che ci siano delle fontane nei paesi dove la gente vada a prendere acqua controllata, fino a quando non si hanno nei nostri rubinetti acque pulite.